Porta aperta anche quest'anno l'Università della Valle d'Aosta con una partecipazione come sempre molto generosa da parte degli studenti, nel senso che abbiamo avuto una presenza, abbiamo in corso una presenza di circa 250 studenti che provengono per la metà dagli istituti scolastici di Biella e di Caluso e per un'altra metà dagli istituti valdostani, specificamente Aosta, Verres e Pons-Saint-Martin. Come sempre abbiamo delle presenze più lontane, quest'anno Trieste ci è venuta a far visita come Reggio Emilia e poi delle presenze della Sicilia e della Puglia dove partecipiamo ai Saloni dell'Orientamento e abbiamo sempre un ritorno positivo. Quest'anno presentiamo, insistiamo nella presentazione del nostro cavallo di battaglia che è il corso di laurea in lingue per la comunicazione dell'impresa, un corso con doppio diploma ad Aosta e a Schamberi che si arricchirà per gli studenti che si iscriveranno quest'anno anche della sua prosecuzione magistrale perché il Consiglio di Amministrazione ha già preso in positiva considerazione lo studio di fattibilità del cosiddetto più due cioè del Consiglio di Laurea Magistrale che sarà dedicato proprio alla lingua e comunicazione per l'impresa e il turismo con particolare riferimento alle tematiche di alta montagna. Vogliamo proprio indicare specificamente che è una laurea magistrale sul tema della comunicazione riferita ad un contesto ben preciso, sociale, economico, territoriale, ovviamente ambientale che è quello dell'alta montagna. L'altro elemento di novità di quest'anno è il corso di laurea in scienze politiche che pur mantenendo la sua base di insegnamenti fondamentali però si arricchisce di una specifica direzione degli studi che è quello dell'innovazione digitale. Saranno previste, cioè sono previste una serie di iniziative proprio già sul tema dell'innovazione digitale, dell'agenda digitale, Stato e Regione nei prossimi mesi quindi ad aprile, maggio, giugno che valgono anche appunto come presentazione dell'iniziativa e poi gli studenti a settembre, ottobre iniziaranno le lezioni di questo nuovo corso. Per il resto è stata confermata l'offerta formativa degli altri anni per quanto riguarda il triennio di psicologia per quanto riguarda il triennio di economia, la laurea magistrale di economia e scienze politiche che è stata avviata l'altro anno e quest'anno appunto è al suo secondo anno mentre invece come sapete si è ritenuto facendo una scelta di responsabilità verso i giovani verso quanti hanno già un'abilitazione ad insegnare e poi in particolare verso i giovani che intenderebbero ottenerla iscrivendosi ai nostri corsi di sospendere l'attivazione del primo anno di scienza della formazione. Con molto favore abbiamo accolto la proposta che ha un po' bruciato i tempi perché la stavamo immaginando anche noi di realizzare relativa appunto a un tavolo di lavoro che coinvolga tutte le componenti che sono coinvolte nella formazione dei formatori quindi sicuramente l'università, la regione tramite l'assessorato, tramite la sovrintendenza ma tutte le componenti scolastiche quindi dai dirigenti scolastici alle rappresentanze dei docenti e dei sindacati ovviamente in modo tale da avere un contesto ampio, proficuo di lavoro dove si possa affrontare il tema della specificità del corso che è una specificità legata al profilo linguistico e della cultura locale quindi linguistico francofono e di un'altra lingua individuata nell'inglese e di cultura locale perché è molto importante attraverso i formatori sensibili e ricchi di cognizioni riferite alla tradizione locale che vadano appunto a creare un ponte verso le generazioni future in cui si trasmetta il senso della specificità della comunità e quindi le ragioni dell'autonomia. Grazie